Compito mangia un paletto di burro. Visto che molti studenti sono in punizione permanente, abbiamo radunato tutti in una sola classe. Immagino non ci siano obiezioni. Wendell in punizione. Il piacere di cucinare Milaus. Ehi ragazzi sentite, mi è venuto in mente che uno qualsiasi di noi potrebbe essere il prossimo. Perciò che ne dite di tagliare la corda? Alzi piano giovanotto, se ti stanchi mi diventi stoppaccioso. Andiamo a controllare i ragazzuoli del pascolo. Grazie a tutti.